Io non mangio tanto eppure ingrasso, io ingrasso solo a guardare il cibo, io ho un metabolismo lento. Queste frasi, se tu hai un metabolismo lento, le puoi comprendere molto bene. Io ci ho passato la vita con un metabolismo lento, io ho un metabolismo lento che sono riuscito a riportare a una buona efficienza, ma il metabolismo lento esiste, non è vero che non esiste, perché se così fosse non dovrebbero esserci persone magre che si mangiano di tutto ma non mettono un filo di grasso. Quindi se esiste il metabolismo veloce, esiste anche il metabolismo lento. Non è una condizione però dalla nascita, tutti nasciamo con un buon metabolismo, si danneggia nel corso della vita. Ti racconto la mia prima esperienza con una dieta, e in questo canale non parleremo di diete, perché la dieta non è la soluzione. Io avevo 18 anni, volevo perdere una decina di chili perché ero un po' cicciottello, fin da ragazzino ingrassavo facilmente e così via, e un professionista mi ha dato una dieta, quindi con 2200 calorie, tutte le grammature, dovevo pesare tutto e l'ho fatta per sei mesi. Io come un soldato molto determinato che sono, ho fatto questa dieta per sei mesi, ho perso dieci chili, mi sono rimesso in forma e voi direte wow, è un successo. In realtà quello che è successo nei mesi successivi non me lo posso certo dimenticare, perché in tre mesi sono aumentato di 22 chili di grasso fondamentalmente, sono ingrassato 22 chili nei successivi tre mesi, avevo perso totalmente il controllo sul cibo, sembravo posseduto, mi svegliavo di notte e mangiavo, e si può dire che questa dieta mi ha causato dei disturbi alimentari e da lì ho cominciato a farmi delle domande. Io sono nel fitness, nel mondo del miglioramento estetico, del dimagrimento, delle strategie bruciagrassi da 15 anni, e lì è stato quando ho iniziato a farmi delle domande e dire forse le diete con la conta delle calorie sono disfunzionali all'essere umano, visto che l'essere umano è l'unico al mondo, proprio come essere vivente, a contare quello che mangia perché sennò ingrassa. E questo accade perché abbiamo cibi che non dovremmo mangiare, ma che la società ci mette nel piatto e ci dice dovete mangiarla, però dovete conteggiarla perché sennò ingrassate, non esistono leoni grassi, no? Non esistono leoni un po' più sovrappeso di altri, non esistono lupi sovrappeso, nell'oceano non troveremo di certo un pesce che mangia troppo e che quindi deve contare le calorie, è una cosa abbastanza stupida contare le calorie e non è la soluzione perché il problema non è il sovrappeso, è il sovrappeso causato da un metabolismo lento, quindi noi stiamo parlando del sovrappeso che è un sintomo, una conseguenza a un altro problema. Qual è il problema? Il problema è il metabolismo lento. Io mangio già poco ma non perdo peso. Questa è un'altra citazione che sicuramente hai fatto e che io ho fatto. Dare un'alimentazione con ancora più ridotte calorie a una persona che già non dimagrisce con poche calorie, beh non facciamo altro che abbassare ancora di più il metabolismo. Una persona può adattarsi a sopravvivere, il corpo si adatta a vivere anche con 500 calorie, ma poi ti ritroverai con un metabolismo che letteralmente viaggia a 500 calorie. Perché la dieta è concentrarsi sul sintomo e non sulla causa. In questo canale parliamo di cause di metabolismo lento, ce ne sono tante, più di otto, continuo costantemente a studiare, ad aggiornarmi e se ne scoprono di nuove, se ne scoprono di nuove ci sono tanti fattori. Nessuno nasce col metabolismo lento, nasciamo a posto, ma lo stile di vita, l'ambiente, gli alimenti ci danneggiano il metabolismo nel corso della vita, sì che ci ritroviamo un giorno con quello che è un metabolismo lento. Il 50% del mondo soffre di metabolismo lento, che ha tutta una serie di sintomi che molto probabilmente hai e che le persone che hanno metabolismo lento hanno. Bassi livelli di energia, questo è il primo. Cattiva qualità del sonno, dipendenza da cibo, cattiva digestione, bassa temperatura del corpo, mani e piedi fredde, inspiegabile aumento di peso, fatica a perdere peso, questo ovviamente è un indicatore molto comune. Cattiva digestione, sono tutti fattori e ce ne sono tanti altri che partecipano a rallentare il mio metabolismo. In questo canale, intanto ti do il benvenuto, io sono Luca Veronese, esperto in strategie bruciagrassi e metabolismo lento. In questo canale parliamo proprio di questo. Cerchiamo tutte le problematiche, ti do tutte le soluzioni affinché tu possa migliorare il tuo metabolismo. Quindi iscriviti al canale, lascia dei like, attiva la campanella e goditi tutti i video.